Il verdaccio non esiste, o meglio, facciamo chiarezza. Nel suo trattato della pittura, Cennino Cennini fa cenno a questo verdaccio come sfondo da mettere sotto l'incarnato. Da allora tutti hanno preso a chiamare così qualsiasi verde noi mettiamo sotto questo strato di pittura. La sua ricetta, nero, rosso cinabro, ocra e bianco. Un po' di ocra, un po' di bianco, un poco di rosso, ma poco poco e nero. Ed ecco, qui con la giunta dell'ocra abbiamo il nostro verdaccio, che può essere scuro o chiaro a seconda delle ragioni, come ne chiama lui. Quindi abbiamo dato solo un nome ad un colore, ma chissà quanti altri nomi gli avranno dato nel corso dei secoli. Fate anche voi il vostro verdaccio.